Proviamo a dare qualche indicazione per i coreoscettici che sentono la danza contemporanea come lontana e incomprensibile. Bisogna capirli perché esistono tante scritture coreografiche ed estetiche diverse che effettivamente possono disorientare. Diamo fiducia però ai coreografi e consideriamo che dietro ognuna di queste scritture c'è una ricerca sulla verità del gesto e dell'espressione. Le pièce sono come esperienze portate in scena e nella danza contemporanea c'è sempre un'elaborazione in forma artistica ed estetica di nodi tematici, di argomenti che interpellano da vicino il coreografo. Per ogni coreografo in modo diverso il movimento è in relazione con la musica, con il virtuosismo, con la bellezza, con problemi universali e esistenziali e con quelli che riguardano anche invece il nostro tempo. Grazie per la visione!